bene a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di broomstars ma non c'era un compito, ci faremo un box opening ci sentirete qualcosa in un rumore è perchè fa un veloce se il ventilatore perfetto ragazzi cambiamo account e andiamo appunto su luca superman perfetto ragazzi ah se un box opening e per non far durare mezzo secondo il video perchè sono poche ricasse ci andremo a fare qualche partita andiamo a riscuotere questo regalo grazie 40 raddoppi oggettoni perfetto guardate la soglia del broompass sono arrivato alla soglia della mega cassa va bene ragazzi andiamo a farci delle partite in sopravvivenza solo con il boh chi metto ah comunque mi sono andato di salaschini mi piaceva davvero molto mettiamo non lo so ehm raga chi metto boh Gesù c'è Gesù no non c'è Gesù peccato volevo Gesù Maxine non so perchè adesso uso solo Maxine nella sopravvivenza singola aspetta ragazzi spero di vincere siamo arrivati pure alle 15.000 coppe perfetto 15.000 coppe mi dà cassa con 5 skip e fare un video dedicato al broompass e fare un video dedicato al broompass addio ah addio bene scusa giochiamo alle mappe della community va bene mettiamo footbrawl ho qualcuno da fare frank frank come ci vuoi nella mia vita tre battaglie ah ok mettiamo frank frank un cuzzo perfetto che mappa è questa che schifo eh qua è questione di velocità perfetto perfetto la velocità l'abbiamo vinta noi si si perfetto e adesso ah ok perfetto il primo gol è stato fatto da me aiuto no 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 per favore no no maledetti no no vabbè per come se mi piace bravi mi avete segnato adesso spacco tutto no 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 cosa perchè mi hanno no vabbè no no 爾 voglio rinascere no no dai 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 però questa mappa è schifo mi sono ricaricato già la super insomma no vabbè uccidi cos'è cos'è oddio si oddio si è già invisibile eh no va di sound effects by l'unico si ho rotto il muro perfetto ho rotto il muro vabbè ho rotto il muro non ho rotto niente oddio brava bea ok non è calcio solo per dire intercettato raga tra poco faremo il box quindi tranquilli grazie e adesso facciamo così no ho letto che non la possiamo prendere ma che s***a ma e dai io non dovevo rovere questo muro aiuto amici scusate raga non ho domande perché vi ho rotto a te mi fate il domande proprio zitti mucci 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 zitti niente niente domande c'è l'esercito abbiamo avuto un c***o incredibile dai 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 no oh 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 mio dio è perfetto vuole perdere perfetto però no no eh che c***o credo che è perso si è perso è decisamente perso vabbè è stata una bella partita la missione non la farò mai però no non ci hanno segnato scusate guardate perfetto ehm gadget leone inutile ha pure una vita ma non c'è il tempo ma non c'è il tempo ormai c'è le torrette tipo quella di vai ah quindi ragazzi io vi avevo promesso che il boss non saperebbe che non sarà stato oggi e così è stato immobilizza perfetto ehm dai 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 che si può vincere vabbè si può pareggiare almeno però non dobbiamo fare il segnale dai dobbiamo pareggiare eh eh aia andiamo su box opening ragazzi quindi andiamo su brawl stars un attimo aiuto quindi ragazzi box opening eccolo qua scusate per la grafica ma io non ci posso fare niente raga mi dispiace davvero tanto per la grafica Allora box opening perfetto iniziamo con la prima cassa 48 di oro skip luminosa non c'è poi con uno skip mica cassa oggi skip ci sono 5 aaaah madonna perchè mi si è chiuso cassa enorme quindi 56 di oro 3 skip niente ho nemmeno ombrole ecco ecco infatti carl nuovo brawler quindi apriamo ho sbagliato a fare prima tutte le casse brawl aaaah la vita dai 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 voglio aprire le miga casse 13 oh ma i brawler rari dove stanno c'è raga sto finendo cassa assurdo quindi cassa ok questa è l'ultima cassa niente madonna ok adesso iniziamo le casse enormi perfetto 67 di oro niente niente raga è davvero un casino aiuto andiamo qua andiamo qua casse enorme skip luminoso non c'è lo skip luminoso casse enorme nuovo 17 ok 2 skip luminosi raga raga cosa mi stai raccontando raga raga rosa c'è un altro skip luminoso e pocio perfetto tutti i brawler rari lei mi aspettava un leggendario eheheheh 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 di nuovo casse 46 attendi 2 skip e raga e cosa sta succedendo ragazzi quindi riprendiamo casse enorme 39 skip luminoso beryl perfetto perchè si chiude madonna non chiuderti perfetto no casse enorme 68 niente pure 2 skip ma non si vede niente ok dovrebbe vedersi bene non con la grafica eh il skip luminoso il skip luminoso il skip luminoso 51 niente no raga ma sono finite sono mega casse sono mega casse ahhh finito mega casse scusate raga per box opening si dai brawler epico no stack dai epici comunque siamo a 3 super rari eh buono buono ultima ultima cassa del giorno vai 5 skip raga voglio vedere il mio oro aspettate un attimo oro mi sta prendendo in giro 2.000 di euro e guardate la sezione di brawler 5 ma cosa ragazzi sapete cosa vi dico questa cassa enorme io mi faccio una missione per per giocarla adio ragazzi io ho 40 gemme questa skin costa 39 gemme ed è molto bella se arriviamo almeno ai 10 like la compro ragazzi ultima cassa del giorno vai 55 attenzione niente vabbè raga ciao aش aش a.. a a a a a Grazie a tutti.